Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la prima maglia dell'Atletico Madrid per la stagione 22-23, quella indossata dai calciatori. La maglia da calcio Nike Atletico Madrid 2022-23 sfoggia una nuova versione delle tradizionali strisce bianche e rosse del club. L'Atletico non ha mai avuto strisce così ondulate, è la prima volta nella sua storia. La parte posteriore della maglia dell'Atletico 2022-23 è principalmente rossa, con un pannello blu scuro sull'area del colletto parte superiore. La bandiera spagnola è stampata sotto il colletto. La maglia dell'Atletico Madrid 2022-23 sono le prime a riportare il logo del nuovo main sponsor Whale Fine. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'Atleta. Che bella! Devo dire che questa maglia dal vivo è veramente strepitosa. Questo contrasto, bianco, rosso, azzurro, veramente blu, veramente molto bella. Peraltro a questo costo, voglio dire, cosa fare se non comprarla e metterla nel proprio armadio. La maglia è fatta benissimo, la trama è stupenda, i colori sono brillanti, le patch sono attaccate nel modo giusto, è veramente una bella sorpresa. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i riferimenti per comprare questa maglia che è veramente fatta molto bene, con un'ottima qualità e con dei tempi di spedizione veramente molto veloci. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Ciao! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.